Anatomia, apparato cardiocircolatorio, timo. In questo video analizziamo un organo che andrebbe classificato come organo linfoide. Dal momento che stiamo trattando quindi il sistema linfatico, per completezza, tratteremo anche il timo, la cui funzione non è tanto nella circolazione della linfa quanto nella maturazione dei linfociti e dell'intero sistema immunitario di conseguenza. Il timo ha una forma doppio lobbata. Si tratta infatti quasi di due organi a sé stanti, a forma di corno, che si uniscono lungo la parete mediale. Il timo ha una situazione piuttosto diversa tra gli anziani e i bambini. Infatti, laddove nei bambini il timo è un organo molto grande, come lo vedete in quest'immagine, negli adulti, già a partire dalla prima adolescenza, comincia ad atrofizzarsi fino a diventare minuscolo e a ritirarsi verso il collo. Nel neonato il timo presenta il suo apice a livello della vena brachiocefalica di sinistra. L'apice del lobo destro del timo raggiunge proprio il punto medio della vena brachiocefalica di sinistra. In basso poggia sulla parte atriale del cuore. Lateralmente prende contatti con le pleuro e mediastiniche, mentre anteriormente prende contatti con la fascia endotoracica e quindi indirettamente con la parete toracica anteriore. Il timo riceve il sangue dalle arterie timiche, che vengono da parte delle arterie mediastiniche, dalle arterie pericardicofreniche o dal tronco brachiocefalico direttamente a volte. Le vene timiche, invece, confluiscono nelle vene tiroidei inferiori, nelle vene pericardicofreniche e nel tronco brachiocefalico. Il timo riceve un'innervazione da parte dei plessi cardiaci e perivascolari, che sono comunque rami del vago. La struttura del timo è piuttosto semplice da riconoscere al microscopio, anche se sottende un'incredibile complessità funzionale. Il sospetto, come potete vedere, è quello di numerosi lobuli che presentano una zona corticale estremamente basopila e una zona midollare meno intensamente colorata. Ovviamente l'organo presenterà una capsula esterna che andrà a sepimentare i vari lobuli. Ma vediamo come è fatto il singolo lobulo timico. Ogni lobulo presenta una zona corticale in cui ci sono cellule in maturazione e una zona midollare in cui le cellule arrivano allo stadio finale della loro maturazione. Diamo quindi un'occhiata a quali cellule compongono il timo. A partire dalla corticale verso la midollare ovviamente presenterà tipi cellulari diversi. Le cellule epiteliali cambiano fenotipo dall'esterno verso l'interno. Nella corticale abbiamo le nurse cell che presentano degli alloggiamenti in cui accolgono i timociti immaturi, cioè linfociti T appena arrivati dal midollo osseo. Nella parte finale della zona corticale osserviamo le cosiddette cellule del reticolo che formano appunto un reticolo tridimensionale entro cui sono accolti i timociti in maturazione. Infine nella zona midollare le cellule timiche formano dei corpuscoli a lamelle concentriche, detti corpi di assal, la cui funzione non è ancora ben determinata. I timociti, cioè i linfociti T in maturazione, sono presenti dalla corticale alla midollare, seppur riducendo il loro volume. Infatti nella corticale dove sono immaturi sono molto grandi. La maturazione li rimpicciolisce. Infine i macrofagi e le cellule presentanti l'antigene sono presenti solo a livello della midollare, dove svolgono un ruolo di selezione sui timociti. Eccola qui la struttura di un lobulo timico. In alto abbiamo la corticale dove possiamo vedere i timociti immaturi e le nurse cells. Più in basso sempre nella corticale le cellule del reticolo e timociti leggermente più maturi. Infine possiamo vedere la midollare, che è molto più complessa in quanto presenta corpuscoli di assal, timociti quasi maturi, macrofagi e cellule interdigitate che presentano l'antigene. Questa struttura molto complessa rende sia motivo della colorazione dell'obulo timico, sia della sua funzione. I timociti raggiungono la corticale in uno stadio molto immaturo, vengono dal midollo osseo. In questo stato non hanno né il CD4 né il CD8, si dicono quindi timociti doppio negativi. Poi, procedendo verso la midollare, allo stadio delle cellule reticolari, assumono entrambi i corecettori, sia CD4 che CD8. A livello dell'amidollare poi vengono selezionati. Esiste prima una selezione positiva, che permette ai timociti di diventare capaci di riconoscere l'MHC del corpo di cui fanno parte, e oltretutto fa sì che essi scelgano tra CD4 e CD8. Dopodiché avviene una selezione negativa, in cui ai timociti vengono presentati antigeni self e se reagiscono vengono distrutti, perché altrimenti genererebbero un clone autoreattivo.